Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con la politica. C'era attesa per l'ufficio di presidenza del PDL successivo alle forti fibrillazioni determinate dalla decisione della Cassazione sul processo Mediaset. Dopo i pareri di Schifani e Lupi giungono le parole tutto sommato distensive di Berlusconi che invita a proseguire colletta. Il cavariere si sente sereno perché la sua condanna appare improbabile. La vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi in relazione al processo Mediaset è ormai il suo culmine e lo stallo politico che ne consegue rischia di coinvolgere, se non addirittura travolgere, il governo di Enrico Letta. È quello che emerge dall'intervento di Renato Schifani, capogruppo al Senato del Popolo della Libertà, che ieri ha delineato la situazione senza lasciare spazio a possibili interpretazioni. Difficile, ha riferito Schifani, che un partito acefalo possa continuare la sua esperienza di governo. La situazione è davvero complicata. Prima dell'ufficio di presidenza, aggiunge il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Maurizio Lupi, abbiamo riunito i gruppi parlamentari. Come ha ribadito Berlusconi, vogliamo sostenere questo governo, ma non possiamo non denunciare quello che sta accadendo alla nostra democrazia, l'eliminazione per via giudiziaria del leader del centrodestra. È un problema della democrazia, chiude lupi, non del governo. Giunge infine l'esito dell'ufficio di presidenza, svoltosi a Palazzo Grazioli. Ne riferisce lo stesso Silvio Berlusconi, che dichiara l'accelerazione dei processi negli ultimi due mesi non può non essere legata al fatto che una parte della maggioranza non vuole un governo di pacificazione. Berlusconi, tuttavia, proprio al cospetto dell'ufficio di presidenza, mette un freno ai cosiddetti falchi. Il governo, dice l'ex premier, deve andare avanti per il bene dell'Italia. A seguire l'invito ad evitare attacchi al governo da parte di singoli esponenti PDL e l'auspicio che la strada contro l'aumento dell'IVA e per l'abolizione dell'IMU sia ancora percorsa con decisione dall'esecutivo. E per concludere una stoccata a Beppe Grillo. Il suo movimento è un bleff, è già impicchiata ed oggi si attesta al 15%. E parliamo dell'altro versante, scatto d'orgoglio del Partito Democratico in una lettera aperta firmata da 70 senatori nella quale si invita il partito a spiegare meglio le difficili e impopolari scelte di questi giorni. Proprio per far comprendere al Paese come il governo letta stente la situazione, data sia la migliore delle scelte possibili. Ed anche il PD batte un colpo. Messo alla frusta dalle ultime elezioni, dalle vicende postelettorali e dai successivi accordi di governo, ritenuti indigesti da gran parte della base, il Partito Democratico ha deciso di reagire. Lo fa dopo l'approvazione della sospensione dei lavori parlamentari su invito del PDL, ritenuto un nuovo strappo con la propria base. Lo strumento è una lettera aperta firmata da 70 senatori PD nella quale si parla di uno scatto d'orgoglio perché non si ripetano autogol come quello accaduto mercoledì quando il partito di centro-sinistra ha appoggiato la richiesta del PDL di sospendere i lavori in aula. Nelle intenzioni dei 70 anche quella di spiegare al Paese l'ineluttabilità del sostegno al governo letta, definito come la migliore scelta che si possa fare date le circostanze. Il documento non è riferibile a una particolare corrente interna al PD, ma a diverse aree dal momento che è stato sottoscritto dalle più disparate anime, dal veltroniano Giorgio Tonini al bersaniano Miguel Gotor, al giovane turco Francesco Verducci. La lettera prosegue con un timore, l'occasione che sta perdendo il PD, si legge nel comunicato, di spiegare e valorizzare le scelte certo faticose e non facili dei suoi parlamentari. I 70 senatori, pur ammettendo il disagio per le scelte fatte sul caso Mediaset, invitano a uno scatto d'orgoglio da parte del PD, in particolare nella direzione di una migliore comunicazione sulle buone ragioni, sulla fatica e sulla responsabilità nel sostenere un governo chiamato a realizzare riforme complesse a fronte di una crisi gravissima. Sapevamo, prosegue il documento, che non stavamo creando un governo di larga intese con Merkel o Cameron, ma le condizioni di urgenza a cui ci richiamava qualche settimana fa il presidente napolitano, non sono cambiate. E passiamo agli esteri. Giallo per il Washington Post in merito a un volo partito ieri da Mosca e diretto a Cuba. Pare che fosse a bordo Edward Snowden, la talpa del DataGate, anche se le indiscrezioni non hanno trovato riscontri. Intanto Microsoft è nell'occhio del ciclone. Una rotta del volo Aeroflot 150 dall'aeroporto Sheremetievo di Mosca fino all'Havana, diversa dalla solito, fa ipotizzare a Washington Post che sull'aeropartito nel primo pomeriggio dalla capitale russa possa esserci Edward Snowden. Il volo, che si tiene quattro volte a settimana, scrive il sito del quotidiano, è partito come al solito alle 14.13 dell'ora locale di ieri, ma qualcosa di strano è successo. L'aereo non ha seguito lo suono male rotta che la porta a nord-ovest nella Scandinavia, quindi sull'Islanda e la Groenlandia, prima di svoltare a sud, sul Canada e gli Stati Uniti. Il volo 150, spiega il giornale, ha volato sopra Europa Centrale attraversando lo spazio aero di Bielorussia, Polonia, Germania e quindi Francia, utilizzando poi una rotta sull'Atlantico più lunga di quella classica. Ecco perché il Washington Post ipotizza che su quel volo ci sia la tarpa che ha permesso di far emergere lo scandalo NSA sui programmi segreti di controllo delle comunicazioni. Nei giorni scorsi Snowden ha ricevuto offerte di asilo da Venezuela, Bolivia e Nicaragua e potrebbe dover cercare un modo per raggiungere il continente sudamericano. Intanto nel caso DataGate ci sono nuove accusi a Microsoft. Avrebbe l'NSA nell'ambito del programma Prism tutti i mezzi per controllare le chat sul suo portale Outlook, le email, comprese Hotmail e le video chiamate su Skype. Sono queste le ultime rivelazioni del Guardian sulla base di documenti segreti resi noti da Edward Snowden. In pratica l'azienda fondata da Bill Gates avrebbe partecipato attivamente aiutando l'NSA a superare sistemi di criptaggio previsti dai suoi siti. Le accuse sono molto puntuali e se confermate smentirebbero la possibilità di una citazione passiva da parte del colosso di Redmond. Microsoft si è affrettata a smentire anche se il giallo assume contorni sempre più inquietanti. Momento storico per l'Irlanda. Il Parlamento ha approvato per la prima volta la possibilità di abortire nel caso in cui la vita della madre sia in pericolo. Legge è diventata realtà vent'anni dopo un disegno poi rimasto nel cassetto. Svolta storica per l'Irlanda. Il Parlamento ha detto sì per la prima volta alla possibilità di abortire ma solo nel caso in cui la vita della madre sia in pericolo. Dopo una maratona parlamentare il testo è stato approvato dopo la mezzanotte con 127 voti a favore e 31 contrari. Viene così legalizzata con la Proctation of Life During Pregnancy Bill che consente l'interruzione di gravidanza ma solo quando la vita della madre è in pericolo anche quando c'è il rischio di suicidio. La nuova legge dovrà essere ora approvata dalla Camera Alta del Parlamento dove il governo ha la maggioranza. L'ok al testo arriva pochi mesi dopo la morte in ottobre di una giovane donna indiana la quale era stata negata un'interruzione di gravidanza in un ospedale irlandese nonostante un aborto spontaneo in corso. La sua richiesta era stata negata perché la sua vita non era in pericolo in quel momento. Ma la giovane era comunque deciduta in seguito ad una sepsi. L'ok arriva dopo che la Corte Europea di diritto dell'uomo aveva condannato il paese britannico per aver vietato la possibilità di abortire ad una donna malata di tumore. Già nel 1992 la Corte Suprema irlandese aveva stabilito quello che è stato provato dopo la mezzanotte ovvero il diritto della donna di abortire se la sua vita è in pericolo. Una decisione che non è mai diventata legge fino alla mezzanotte di ieri. E torniamo in Italia a Milano. È stato presentato questa mattina a Palazzo Lombardia l'iniziativa Credito in Cassa. L'anticipo di un miliardo di euro della regione per salvare i crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Una boccata d'ossigeno per le imprese. Regione Lombardia ha stanziato un miliardo di euro per consentire alle aziende di incassare i crediti spesso di lungo corso vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni lombarde. L'iniziativa Credito in Cassa è stata presentata questa mattina in Regione Lombardia dal governatore Roberto Maroni. Una misura straordinariamente efficace e concreta. Una misura shock che abbiamo voluto mettere in campo. Un miliardo di euro da dare subito alle imprese, alle micro imprese, alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti degli enti locali. Una procedura semplicissima, senza formalità. Una novità assoluta che funziona, a differenza di quello che ha fatto il governo. Un impegno forte di Regione Lombardia a sostegno delle imprese ed sono molto soddisfatto del lavoro fatto. I commenti molto positivi e lusinghieri fatti dai rappresentanti delle associazioni di categoria che abbiamo incontrato stamattina sono molto significativi da questo punto di vista. Finalmente una buona notizia perché come abbiamo ribadito per contrastare questa recessione profonda, lunga, drammatica occorrono certamente delle misure semplici, straordinarie e coraggiose e questo provvedimento annunciato dal governatore Maroni va in questa direzione. Cioè una boccata d'ossigeno verso le imprese, in modo particolare verso le imprese dell'economia, dei servizi che attendevano da tempo e che serve ad incoraggiare l'economia reale e soprattutto a tamponare l'emorragia di imprese che purtroppo chiudono. Straordinario successo per la ricerca italiana. Mentre si parla di Stamine, San Raffaele di Milano e Teleton portano a termine con successo una ricerca di 15 anni. Sei bambini risultano guariti da due malattie ritenute sino oggi incurabili. Mentre le attenzioni e le speranze di molti restano puntate a torto o a ragione su Stamina, sei bambini sono guariti grazie a una terapia messa a punto dalla San Raffaele di Milano, grazie a Teleton. Lo straordinario risultato è il frutto di 15 anni di dura e costosa ricerca che ha comportato una spesa complessiva di 30 milioni di euro, oltre al lavoro di numerosi scienziati. In questo modo sono state bloccate due malattie genetiche sino ad oggi ritenute incurabili, la sindrome Wiscott-Aldrich e la leucodistrofia metacromatica. E il termine bloccare è quanto mai calzante dal momento che con le nuove tecniche messe a punto dai ricercatori le due sindrome sono state bloccate all'origine. Merito di un mix di tecniche tra le più avanzate della medicina odierna, la terapia genica e quella staminale. Il sangue dei sei bambini trattati a Milano è ora formato all'80% da cellule corrette, da questo trattamento applicato nella primavera del 2010 al San Raffaele e di cui oggi si può dare notizia. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, io vi ringrazio per la cortese attenzione, arrivederci!